Un peccato perché oggettivamente oggi ce la siamo giocata in tutti e tre i set. Il primo set è stato deciso un po' da quella decisione ultima, un po' dell'arbitro, un po' discutibile. Gli altri set siamo partiti avanti, insomma ci siamo stati in partita per tutto il match. Poi i ragazzi, loro insomma, sono forti, ci hanno ripreso, però insomma penso che con qualche accorgimento in più questa partita poteva finire in modo diverso. Comunque non è finita, c'è un'altra partita, speriamo di riportarli qua. Io sono contento per me, ma anche gli altri ragazzi hanno giocato tutti bene, non c'è stato... Abbiamo giocato alla fine, abbiamo giocato una bella palla a volo, però oggettivamente loro sono superiori e se non ci concedono qualcosa diventa difficile.